grande oggi voglio sbloccare con voi ma è già cambiata ma scusami è già cambiata è già cambiato tutto che cosa che cosa è successo è già cambiato tutto mi sono girato un secondo e infatti è cambiata no maserati tipo 61 non l'ho presa va bene non fa niente dai allora io oggi voglio vincere la nuova auto esclusiva la formula drift 599 la ferrari paesi italia supercar moderne quindi abbiamo delle supercar moderne paesi italia ne avremmo già supercar moderne vediamo un po che cosa abbiamo paesi italia quindi abbiamo abbiamo il ferrarini senza aver paura abbiamo il lambo senza paura alcuna abbiamo il lambo e basta quindi ho ferrari o lambo considerate una roba io la 4 la 430 scuderia l'amo alla follia senza alcun dubbio però abbiamo un limite mi sembra di di potenza no ovviamente quindi io vorrei dare un occhiata il limite di potenza e 900 s1 900 quindi ci stiamo abbastanza dentro con alcune di loro non potremmo puntare a certe lamborghini però va bene ci sto perché voglio vincere la 599 drift formula drift vorrei farci anche un video sulla 599 dalla formula drift spero che mi sentate bene le possiamo avere tutte le possiamo avere tutte però non sono ancora pompate a fuoco a pet se io vado su acquista auto voglio vedere che cosa mi tira fuori quelle che abbiamo già visto 4 e 30 scuderia mi piace da da panico e 8 e 14 il galliardo lp solo ed è già 4 per 4 il cabriolone qua 4 e 30 scuderia 8 e 34 e 8 e 15 la ff allora abbiamo abbiamo già un bel 72 79 come frenata partenza fermo 8 e 8 e 8 e 8 incredibile 91 lambo 8 e 33 questa non capisco il perché perché la super leggera immaginavo il reventon reventon macchina straordinaria io però sapete così volevo la 4 e 30 scuderia per farmela 4 per 4 per avere un aspiratone infame però credo che prenderò lambo spider ok credo che prenderò il lambo spider e poi me la pompo un po con perché abbiamo già il 4 per 4 più grande per quello che mi mi piace molto la macchina perché sapete che abbiamo il 4 per 4 su queste supercar e vorrei proprio vedere che cosa ci tira fuori no io direi di usarci il lambo facciamo così guarda supercar moderne gli diamo ancora mano anche questa è molto carina da guidare però non è quello che cerchiamo s 1 900 8 e 14 questa è quella che conviene di più anche il reventon è bellissima però paura che poi è troppo è troppo capito infatti è molto più veloce il il galla infatti prendo lui prendo lui non guardiamo in faccia nessuno via noi giochiamo sempre in offline io vorrei portare per un colore carbonio così ma che bello che è bellissima non so se tenermela aspirata o se farla turbo turbo sarebbe il top però credo che dovrei rinunciare a tante cose a livello di di handling per poterla avere turbo quindi mi sa che la terrò com'è cioè aspirata c'è qualche kit carrozzeria quanto biturbo bene che cambia tantissimo col biturbo attenzione 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 diamogli va bene voglio dargli la possibilità stavolta sapete voglio dare la possibilità all'aspirato perde tantissimo perde tantissimo non capisco questa perdita inimmaginabile di accelerazione forse perché poi diventa regolabile ecco la devo pomparla un bel po devo pomparla e la pompiamo posso allargare un po il cerchio non posso allargare il cerchio le gomme lascio queste mi farà potenziare anche i freni no non mi fa potenziare i freni mi da quelli da gara e li mettiamo voglio subito dare tutta tutto quello che ci serve sapete cos'è che mi interessa più che altro avere il peso che è praticamente a zero adesso un buon controllo e soprattutto non voglio avere lag il lag non va bene e non andando bene lag io lascerei l'aspirato vediamo che cosa esce fuori pompando il motore suo cos'eriamo a 18 milioni di giri perché possiamo arrivare a s 1 900 quindi possiamo davvero fare bene davvero fare bene possiamo andare full possiamo andare full 883 completamente suo il motore possiamo anche per metterci qualcosina in più possiamo addirittura farla turbo e avere un erogazione migliore turbo b turbo 892 la parte divertente però è che adesso avendo pure le turbine ovviamente non ci stiamo dentro s 1 900 e qua io glielo metto sapete io glielo messa e chi se ne frega abbiamo ottenuto un buon risultato vero buon risultato come 627 kilowatt che buono che molto buono io però voglio dare anche sapete cosa dato che sono un pazzo 340 all'ora alla grande non capisco perché l'anteriore così morbido voglio dare le molle lascio uguali sapete il freno invece lo butto cattivo 70 per cento al posteriore no va bene il 67 giusto quel pelino che ci piace però io voglio anche dare sapete cosa voglio dare una possibilità anche a raventon perché è una macchina che non ho no ok è una macchina che non ho e mi piacerebbe molto neanche questo neanche la musielago sono tre gare potremmo un milione 300 mila prendiamo il raventon lasciamo pacone un milione 300 non vinceremo mai i soldi che stiamo spendendo ma non ci interessa perché questa vogliamo un po' lasciare così free ma che bellezza opera d'arte senza dubbio senza dubbio fa un po' cagare le gomme però va bene ci accontentiamo anche di una porcheria allora anche la musielago mi piacerebbe molto lascio tutto com'è non credo che sia è già 4x4 se non erro se non voglio turbo altre schifezze gli diamo un po' di gomma un po' di cerchio perché questo lo vedo un po' basso eh allarghiamo il motore dovrebbe già averne eh gli diamo un cambio veloce perché credo che questo non sia fulmineo come si crede mi fanno a mano un po' gli occhi eh dobbiamo dare così poi gli diamo un assetto vero ok perché il motore ce l'ha questa il motore ce l'ha in dubbio non c'è dubbio che ce l'abbia il motore togliamo un po' di chili che non fanno mai male togliamo un po' di chili aggiungiamo un alettone serio è un muso vero cambia troppo poco per essere serio è vero allunghiamo un po' il range di potenza della piccoletta eccoci qua full la fulliamo senza paura e senza problemi e io questa la vorrei non posso farla biturbo perché diventa un missile continuo a lavorare posso cambiare le gomme ah per un nulla va bene così dai dai 548 kilowatt il peso è simile all'ambo l'altro però l'altra è biturbo con un peso di 100 kg in meno quindi si può fare molto meglio sull'altra questa va molto più forte io la voglio bassa questa questa deve stare bassa niente da fare questa deve stare bassa 70% voglio dargli una possibilità io direi che la prima la facciamo con lei la facciamo con la raventon un jet non un aereo a livello di prestazioni mi aspettavo qualcosina di più eh sinceramente però voglio dargli una possibilità stavolta voglio dargli una possibilità perché mi sembra un'auto valida il lambo è un lambo eh non è una schifezza è un lambo ok usiamo lei e poi ci usiamo la nostra piccoletta c'è anche questa che è interessante che non ho però potenziata ma non ci interessa c'è anche la huracan da quando è che ho la huracan io non lo sapevo non sapevo di avere la huracan ma non fa niente volevo anche l'altra di auto lamuselago ma non la usiamo stavolta beh qua vedete subito la qualità di macchine vere ok siamo sul passo di mortimer signori miei il passo di mortimer è una gara abbastanza impegnativa via il cambio è abbastanza serio eh 4-5-8 davanti a noi non vedo che cos'è è un raventon anche quella lì è un 4-8-8 gtb ah giochiamo sporco ah giochiamo sporco ho capito ma io allungo eh io allungo frenata è straordinaria sento il peso eh i 1500 kg si fanno sentire comunque però ha veramente un controllo imbarazzante guarda inerogazione fluida che è uno spettacolo guardate le ventole dietro guardate che spettacolo che opera d'arte mi scusi quante opera d'arte qua il sound poi vabbè ragazzi di cosa ti sto parlando qua si guida bene eh meglio di quello che sembra tu con l'audi maledetta non ha tanta coppia eh perché se è a 750 newton ottimo che che non abbia coppia eh ma secondo me l'altro il galeardo ha una coppia nettamente superiore nettamente potevo farcela a tavola tavoletta si comporta bene ragazzi devo dire si comporta fin troppo bene ti da tanta confidenza ti da e sono uscito di strada infatti per quello mi da talmente tanta confidenza che sono uscito di strada va 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 che roba oppa eccoci qua preno 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 voilà giù tutto ah proprio li abbiamo sciolti sciolti completamente oppa lì e voilà no problem no problem vorrei poi provarla la 599 da drift eh sarebbe interessante interessante sarebbe sì musica incredibile l'altra gara dov'era ah eccola qua andiamoci subito anche perchè c'è un piccolo passo di montagna se avete visto eh allora lego world com'è simpatica ok e voglio la mia piccolina biturbo questa qua secondo me va eh questa secondo me ti fai male con questa con questa ti fai male sì anzi senza dubbio con questa di notte in seguimento a glenfinnan con questa ti fai male sound è diverso v10 rispetto al v12 eh veloce anche lei ma neanche anche gli altri sono velocini eh non so eh se mi da più confidenza questa o l'altra sicuramente sicuramente l'altra questa qua è molto cattiva pure il naso che è successo qua l'acqua così c'era un golf buttato per strada se deve essere un pelucchio un pelucchio maledetto un pelocchio un pelocchio un pelocchio e anche sul complicatino da usare così adesso eh adesso che ti abitui a un solo modo di guida fai fatica loro vanno più forte di quello che credo ok ok l'FF guarda là come va l'FF amici che è successo? c'è un errore lambo lambo oh di dio lambo usiamolo alla trazione questo era meglio l'altra di queste strade ho fredato un pelo dopo di lui e ho rischiato davvero tutto qua quanto ha di newton? stessi newton praticamente la cavalleria è diversa ma la coppia è la stessa ah l'FF eh l'FF è la più forte di quello che credo quello che pensavo mi dispiace mini ok ok siamo usciti fortino siamo usciti fortino fortini ma non bene non mi è piaciuta tanto questa gara cosa molto bella la pista ma la mia guida è stata un po' un po' cattivella nessuno può battermi ho vinto molto bene ci manca la terza terza e ultima gara che è qua un po' cittadina quindi voglio provare l'altra che ha un'erogazione molto più docile molto più lineare e che è una macchina un po' più interessante anche per voi spero che questi video vi piacciono perché sono molto interessanti eh cerco sempre di pubblicarli nel periodo in cui si può realmente vincere le auto che che faccio il tutorial ferrari rocher di notte attenzione twist eh qua il launch è diverso eh non so neanche che auto è questa qua davanti non so neanche che auto è non so che auto è ah un 430 questo ma l'altra quando vuoi andare forte mi chiami eh ok buono si comporta bene eh il V12 signori l'aspirato non si batte in questi casi tagliato è un jet sta macchina un jet davvero un jet 1.300.000 euro costa sta macchinina signori abbastanza da campare 10 famiglie in un paese già ricco ok via 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 cannone non l'ho mai visto scusate ma non l'ho mai visto ma dove è uscito sto cattivone col taxi restate a casa ricordatevi restate a casa via problem no problem decollo più 70 più 80 la coppia non scende scende meno per l'amor di dio un miracolo è successo anche lì attraversiamolo un po' facciamo scaldare un po' queste gomme facciamole scaldare le gomme via 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 che macchina straordinaria questa una scoperta interessante non è che i pali si distruggono un po' di danni non fanno mai male sesta piena 253 all'ora lisci cruise control vai fino in germania così autobahn e via abbiamo vinto la 599 drift ferrari rocher completato buono 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 guardate che bella che è voglio subito farmi un piccolo giro veloce in questo video ve lo inserisco ma proprio 30 secondi e voglio fare 30 secondi me lo farà fare scusatemi allora auto si dammi l'auto le mie auto ferrari 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 non so se è qui o se è su formula drift formula drift ah che bella che è che motore gli aveva messo guardate che bella che è uuh ma che cos'è che l'hanno resa posteriore in modo incredibilmente cattivo che sound ma va che roba non andare fuori oppa 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 e slitta sempre sta roba beh un'auto da drift quindi e ci sta che ma che roba c'è su ce ne arrivi tutto a slittare bella interessante bella interessante va bene signori direi che l'appuntamento di oggi può finire qui ci vediamo al prossimo video tutti a taboo